Benissimo, dopo gli ACGT, passiamo a un altro gruppo, dopo un gruppo di Vipo Valenzio, un gruppo nostro concittadino, vostro concittadino ovviamente, abbiamo un altro gruppo che viene dalla Toscana, vero? Da dove venite? Da Cuneo, niente meno, pensavamo che si fosse fermata la Toscana, Vipo Rocco invece è andato a Cuneo. Quanto tempo ci avete messo a venire? Con che cosa siete venuti? Siamo venuti con quel furgone, targato Grosseto. Allora mi confondé, era targato Grosseto il furgone, vi avevo visti arrivare, pensavo che arrivasse dalla Toscana, quindi qualcosa c'era. The Rotters. Are you ready? Oh, are you ready? Oh, are you ready? Are you ready? Oh, are you ready to roll? Look at me fire Wanna ring out of denial Wanna know Oh, are you ready to roll? 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 Yeah, how? Oh, are you ready to roll? I run to roll over Grazie a tutti. 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 Adesso un gruppo che viene da Bologna.